Le novità principali di questa edizione sono due, una riguarda una pavimentazione architettonica marchio Leivocell, ma quella sicuramente con il più grande contenuto di innovazione è questa che vedete alle mie spalle, che è il sistema costruttivo X-Wall System. Il sistema si compone di due elementi base che sono una rete, una rete speciale metallica con in tessuto un foglio di cartone che viene completata con una malta, una malta da intonaco, rivestimento che può avere una funzione di carattere conservativo oppure un'applicazione, come vedete in questa statua rappresentata alle mie spalle, dicevo un'applicazione di carattere architettonico. Io posso modulare questa rete a realizzare strutture con geometrie articolate che funge da superfici di design che poi vengono finite a intonaco. È un prodotto che si chiama la Slick, una porta di sicurezza raso-muro di nuova generazione, nel senso che la particolarità è la cerniera che consente un'apertura a 180 gradi in gombro maniglia, ma la grandezza di questa cerniera è che oltre a dare ovviamente questa visibilità raso-muro è che consente, grazie a una doppia battuta, di avere alte prestazioni termiche e acustiche. Le novità del MAD 2015 sono legate ad alcuni prodotti nel settore del risparmio energetico, quindi il clima 34 di Sovere, il cappotto robusto, il Time e alcuni altri prodotti per il comfort, la qualità ambientale all'interno degli edifici, tra cui nel design, ad esempio il Timeless del marchio Saint-Gobain che è un vetro per la doccia che non invecchia, che rimane sempre pulito, eccetera. La cosa più importante però è che in questo track dove siamo presenti e che ci presentiamo anche con una forma diversa per dialogare anche col consumatore finale oltre che con il tecnico, per raccontare che si può oggi ristrutturare e si può fare una casa con un comfort più elevato di quello che abbiamo normalmente nelle case di oggi. Abbiamo battezzato un prodotto che si chiama la casa decappottabile, è una copertura scorrevole che può essere chiusa o aperta come costruzione in effetti, può essere abitabile però chiuso o aperto, questa è la novità effettiva della fiera e anzi ne parlano che sia la novità della fiera perché una novità così grande non ci sono tante. Per cercare di dare un prodotto che non esiste sul mercato, cercare di colmare alcune lacune che possono essere valide per coperture di piscine, ristoranti, anche per ville importanti che può avere un giardino d'inverno o anche un salone che si copre e scopre quando vuole.